Andiamo proprio in diretta da Paolo Renzetti che si trova proprio nel comune di Chieti in compagnia del primo cittadino Umberto Di Primio. Perché? Perché ieri, innanzitutto vi do il buon pomeriggio, buon pomeriggio sindaco, buon pomeriggio Paolo. Ieri proprio il sindaco di Chieti ha fatto un video, un post sui social per avvertire la popolazione di quattro casi di contagi da covid-19 all'interno di uno stesso nucleo familiare, ovviamente chiedendo di mantenere la calma e di non abbassare la guardia. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio sindaco. Grazie, grazie Jacopo, buongiorno a te, ovviamente i nostri telespettatori, siamo a Palazzo di Città. Ringraziamo il primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, per averci ovviamente ospitato tra l'altro nella sua stanza, la sua stanza da sindaco ancora per qualche settimana, per due mesi, possiamo dire. Dunque poi ci sarà tempo per i bilanci, però scherzi a parte Di Primio. Parliamo di questa situazione perché lei ieri con questo post su Facebook ha voluto giustamente allertare, avvisare la cittadinanza di quanto accaduto. Se non erro però sono cinque le persone positive, non quattro. Quali sono le novità degli ultimissimi minuti? Sì, grazie. Più che avvisare e allertare la città, ho voluto mettere un punto fermo in una situazione che si stava facendo veramente fastidiosa, cioè la solita ridda di voci che giravano in città, sui social, con le indicazioni di Tizio, Caio, piuttosto che l'altro, come possibili contagiati dal coronavirus. Ho voluto stabilire un punto fermo che è quello che mi veniva dalle informazioni assunte dalla ASR, cioè vi era una prima refertazione che parlava di cinque persone contagiate dal coronavirus, una di queste ricoverata presso il reparto di malattie infettive del nostro nosocomio. e ho voluto soprattutto far capire a tutti che non è vero che è tutto passato, che come purtroppo abbiamo avuto dimostrazione ci si può ancora ammalare di coronavirus, si può ancora essere contagiati e quindi se è vero che dobbiamo tornare tutti alla normalità e a gran forza dobbiamo pretendere che si torni alla normalità, questo non vuol dire poter abbassare la guardia, questo non vuol dire poter liberarsi delle mascherine quando si è in luoghi chiusi, negli uffici, in un negozio, piuttosto che con delle persone, questo vuol dire soprattutto non fare assembramenti, perché devo dire altresì che oltre alle cinque persone contagiate abbiamo oggi dovuto registrare la quarantena per 30 nostri concittadini i quali sono entrati in contatto stretto con queste persone. Aggiungo anche un'altra cosa, siccome tutti sappiamo trattarsi di persone che hanno un'attività commerciale, io dico a chiunque si sia legato nell'attività commerciale di avere tranquillità e calma, non c'è un'esplosione di coronavirus, c'è da essere molto attenti, sono passate più di 48 ore così come prevedono i protocolli, quindi se nessuno ha avuto, da lunedì, della settimana scorsa, non ha avuto dei sintomi che sono quelli che tutti ormai conosciamo del contagio da coronavirus, estrema tranquillità, non ci sia mala per forza. Bisogna essere tranquilli, bisogna stare tranquilli, nel caso in cui si avessero sintomi va chiamato il medico di famiglia, il quale provvederà a richiedere alla ASL un tampone per sicurezza. Io personalmente ho parlato con il direttore Shell e con il responsabile del servizio Torsi, i quali mi hanno dato assicurazione e rassicurazione sul fatto che laddove dovessero giungere delle richieste di tampone provvederanno immediatamente, questo perché è intenzione di tutti circoscrivere da subito il possibile perimetro del contagio e evitare che ci sia non soltanto una propagazione mediatica ma anche virale, che è la cosa più importante di questo fenomeno. Lei giustamente, Sindaco, vuole tranquillizzare la cittadinanza e il messaggio lanciato ieri su Facebook è sicuramente questo obiettivo come anche oggi ai nostri microfoni, però a Chieti c'è un po' di apprezzione soprattutto nella zona del centro storico, soprattutto nella zona proprio a ridosso di questo esercizio commerciale. Ma certo, è comprensibile che ci sia apprezzione, è comprensibile che ci siano cittadini spaventati perché magari si sono serviti da loro. Tutto questo è vero, è possibile, anzi lo tocchiamo con mano, esiste già come problema, ma io non posso esimermi dal dare un messaggio che è quello della massima tranquillità. Non stiamo parlando di qualcosa che non conosciamo, parliamo di qualcosa che conosciamo, sappiamo come affrontarlo, sappiamo quali sono i sintomi, non stiamo a febbraio quando non avevamo attrezzature né percorsi per poter affrontare il problema. Il caso è circoscritto a 5. Io ricordo a tutti che in questi due mesi nella nostra città abbiamo avuto quasi 300 positivi, con un numero spropositato di persone messo in quarantena, abbiamo gestito tutto senza clamore, adesso capisco, comprendo, che nel momento in cui ci si era rilassati questo nuovo dato possa creare maggiore apprezzione. Io dico che deve creare maggiore attenzione, cioè deve mettere in testa a quelli che con poca intelligenza hanno pensato che tutto fosse finito, che invece bisogna continuare a stare attenti. Oltre questo però dico che dobbiamo per davvero giudicare e esaminare le cose dati alla mano. I dati alla mano ci dicono che nella città di Chieti ci sono soltanto due persone positive per questa vicenda e ci sono 29 persone poste in quarantena. Questo è il dato oggettivo. Essere in quarantena non vuol dire essere positivi, quindi due positivi su una popolazione di 54.000 abitanti credo che non debba essere un dato che deve creare apprezzione. sarei più preoccupato, ed è per questo che ho fatto una richiesta alla Polizia Municipale, di intensificare i controlli, sarei più preoccupato di coloro che fanno assembramenti davanti ai locali, che non rispettano le regole nei bar o che non osservano il distanziamento laddove è richiesto. Questa è la cosa che mi fa più paura, perché lì vuol dire non poter controllare la situazione. Aggiungo alla informazione che lei correttamente dava che una delle persone risultate positiva aveva scaricato l'app Immuni. Questo sta consentendo a noi tutti, con la sua autorizzazione, di poter rintracciare tutti i luoghi dove questa persona è stata e quindi anche con chi è stato. Il che vorrà dire anche avere un dato ancora più puntuale sulle persone che hanno avuto un contatto stretto, perché solo quelle sono quelle che devono essere attenzionate e non tutti coloro che vivono a Chiedi, che vivono nel centro storico o sono andati nel negozio. Jacopo, a te la linea il Sindaco è a nostra disposizione per qualche domanda, ovviamente anche da studio. Certo, certo. Di nuovo buon pomeriggio Sindaco. Ecco, proprio sulla questione dell'app Immuni, perché lo ricordiamo, è notizia di ieri che per la prima volta in Abruzzo si è attivata la procedura per la segnalazione di positività. Siccome attorno a questa applicazione, nelle settimane scorse, c'è stata un po' di polemica, un po' di maretta, serve, non serve, troppo tardi, rilasciata in tempi non tempestivi, ecco, evidentemente oggi ne vediamo i benefici oppure no? Oggi credo che noi stiamo sperimentando come questo elemento di tecnologia all'interno di una pandemia possa essere d'aiuto a chi deve poi fare, rintracciare i percorsi di quanti sono risultati positivi. È indubbio che l'app si dimostra come un'app utile per chi deve fare questo lavoro di rintraccio delle persone che sono entrate in stretto contatto e un'aiuto, un ausilio di carattere tecnologico che fatta la tara sulla necessità di preservare la privacy di ognuno credo in questo momento dia una grande mano a chi all'interno dell'ASR deve compiere un compito non facile che è quello di chiamare a casa le persone che sono state a stretto contatto e avvisarle che dovranno essere messe in quarantena. Un'altra considerazione, siccome dal suo post e anche dalle parole di poco fa effettivamente si evince che la vera preoccupazione del primo cittadino di Chiedi in questo caso è più che altro la sensazione che in giro ci sia un po' una sorta di vabbè, oramai l'emergenza è passata. Ecco, a distanza di qualche ora, di un giorno dal suo post lei ha trovato anche un feedback all'interno della sua popolazione per cui adesso c'è una consapevolezza magari maggiore che le cose non siano terminate cosa che magari fino a qualche ora fa non c'era? Guardi, io le do due dati in realtà in contrasto l'uno con l'altro il primo è che mi viene riferito è che nella zona in cui c'è l'esercizio di questi signori oggi c'era molto meno gente in giro qualche mascherina in più la si vede allo stesso tempo le devo rappresentare per presa di coscienza diretta per aver visto io personalmente che in alcuni bar si è seduti l'uno vicino all'altro senza problemi, senza distanziamento tra un tavolo e l'altro quindi queste sono le due facce di una stessa medaglia quella di chi è spaventato e oggi non si muove e di chi invece inconscientemente crede di poter fare un po' tutto quello che vuole nonostante si chieda ancora di avere alta l'attenzione sul problema epidemico e sul problema del possibile contagio io penso che non si debba in questa vicenda da sempre ho adottato un metro che non era quello dell'integralismo di alcuni miei colleghi cioè non ho ritenuto di dover mettere la città sotto una campana di vetro ma non ho neppure l'esinato degli interventi forti come la chiusura della villa comunale io credo che in queste occasioni l'equilibrio, la conoscenza di quello che abbiamo a disposizione siano elementi fondamentali oggi noi abbiamo una conoscenza piena di tutte le procedure da seguire abbiamo strumenti assolutamente all'altezza per gli stress test fatti durante il periodo di acuzie della pandemia oggi dobbiamo sfruttare questo know-how che abbiamo acquisito per gestire al meglio una emergenza nuova il caso isolato si tratta di 5 persone 2 residenti a Chieti parliamo di 30 persone in quarantena non positive ma in quarantena per il momento quindi il caso è isolato ma credo che questo caso isolato augurando ogni bene ovviamente a chi ne è coinvolto sia servito a far capire alla gente che non si può abbassare la guardia in tutta questa vicenda un po' di superficialità devo dire c'è stata quella superficialità oggi forse ci costringe a commentare questo episodio di cronaca Paolo Paolo Sì per chiudere io sindaco vorrei chiudere con una battuta augurandoci ovviamente che questa situazione possa rientrare questo mini focolaio possa rientrare nel giro di pochi giorni e tornare dunque alla normalità per lei sarà un'estate calda perché dovrà gestire la campagna elettorale da primo cittadino in vista di quello che accadrà a settembre non ci sarà tempo per le ferie per le vacanze per il sindaco di primio perché a Chieti il 20 settembre si voterà Guardi l'anno scorso 5 consiglieri comunali di Forza Italia che facevano le bizze mi hanno costretto a tornare dalle ferie il 14 di agosto quest'anno ho evitato di partire così non devo tornare grazie grazie al sindaco di Chieti Umberto di Primio grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica da Chieti da Palazzo di Città e Tutto linea che può tornare allo studio a Teaco grazie a tutti